Quando si sente parlare di donna e quindi di eco di donna, credo che tutte le donne dovrebbero essere interessate ad esserci a correre, quindi io per prima, perché mi sento un po' una delle tante voci in questo periodo, sono chiamate e interessate. Quindi insomma sono qui per questo anche perché mi piace anche l'idea che dietro questa rassegna ci sia Chiara Raggi che è un'ottima musicista della nuova generazione che io ho avuto già modo di ascoltare, apprezzare e premiare, quindi per questo appena lei mi ha invitata io sono corsa per essere nel ruolo addirittura di madrina e quindi il mio augurio è che la canzone d'autore al femminile anche grazie a rassegne come questa abbiano un futuro migliore, più semplice, più sempre in discesa e mai con difficoltà. Come purtroppo in questi ultimi tempi è stato fatto notare. L'organizzazione della rassegna che vede cinque appuntamenti tutti a ingresso libero da sabato 29 giugno con la cantautrice italo-greca Marina Mulopulos fino a sabato 20 luglio con la cattolichina Crista ha fatto di tutto per poter tenere il concerto che è stato poi rinviato a venerdì 19 luglio. Ci sono io al pianoforte e alla voce ovviamente c'è Sasà Calabrese al basso e Roberto Guarino alla chitarra e sono dei musicisti che mi accompagnano da tempo sia nel live che nelle produzioni discografiche che faccio. Farò ascoltare intanto tutto il mio repertorio più conosciuto, quello che comprende le canzoni che io ho portato anche al Festival di Sanremo e quelle che ho scritto con grande successo interpretate dai grandi nomi che mi hanno chiesto di collaborare con loro. E poi immagino che da qui il futuro non solo mio ma della canzone che potremo sentire in generale sia un futuro di maggior libertà perché è un po' stata appaltata ultimamente la musica e quindi mi piace scardinare queste catene e aprirle e anche da qui, anche grazie a questa rassegna, anche questa sera farò questo appunto, dirò che la musica deve tornare ad essere libera e lo farò al mio modo.